C'è fermento in Contramure Pallamaio, in città per l'operazione di brillamento di una bomba trovata in loco, ordigno bellico aereo di ben 500 libre di provenienza anglosassone risalente alla Seconda Guerra Mondiale mai esploso. Il prefetto ieri ha indicato domenica 2 maggio come data utile per prelevare la bomba e portarla nella cava di Alonte, dove verrà fatta brillare. Artificieri, una quindicina di militari dell'ottavo reggimento, genio guastatori paracadutisti della brigata Folgore, distanza Legnago, non smettono di lavorare e presidiare il posto H24. Anche la casa di cura Eretenia è interessata all'evacuazione il 2 maggio. I pazienti sono perfettamente al sicuro grazie alle istituzioni che già hanno provveduto a mettere in sicurezza la casa di cura. Quindi tutto andrà per il meglio, voglio essere ottimista, anche perché abbiamo a che fare con dei professionisti che ci salvaguardano molto, molto all'altezza della situazione. Quindi i pazienti saranno salvaguardati al 100%. Il Presidio Sanitario del San Bortolo è già pronto ad accogliere eventuali pazienti che potrebbero essere una quindicina. Sarà una domenica anche di evacuazione dei residenti nel raggio di almeno 500 metri, si calcola almeno 3.000 persone. Noi ci sentiamo molto tranquilli perché mi sembrano persone molto preparate, stanno facendo un ottimo lavoro con il bunker e con la creazione del divisorio che ci dovrebbe proteggere, quindi le case non dovrebbero avere danni, speriamo. E ai suoi amici come la racconta questa esperienza? Ho una bomba sotto casa. Ho una bomba sotto casa.